Come memorizzare la data della prima Olimpiade della Storia? La prima Olimpiade della Storia si svolge ad Olimpia nel 776 avanti Cristo. Per i greci è molto importante questa data perché fondono il loro calendario da questa data. L'anno zero per i greci è costituito dal 776 avanti Cristo, la data della prima Olimpiade. Per ricordare la data è molto semplice. Abbiamo il 7 che si ripete due volte e poi il 6. 7, 7, 7, 6 Ciao al prossimo video, vi aspetto! Ciao! Grazie a tutti.